Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a visionare un nuovo video trash di merda assurda Io li amo i video trash di merda assurda Prima di cominciare mi raccomando in descrizione trovate il link della mia pagina facebook Andate a mettere subito mi piace e tempestà di like anche questo video Il video che andremo a visionare oggi si chiama speciale due iscritti E beh insomma via Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono FaviJ L'intro l'ha copiata da FaviJ al 100% copiata da FaviJ Io sono Surreal Power Un attimo raga ho sentito male io abbiamo sentito male noi chi sei tu? Io sono Surreal Power Surreal Power lui è Surreal Power Ogni tanto il computer fa dei brutti scherzi cambia le parole involontariamente può essere che abbiamo sentito male Risentiamolo Io sono Surreal Power No ha detto proprio sono Surreal Power ma sei convinto tu che sei Surreal Power Raga scoop sensazionale abbiamo Surreal Power all'età di 8 anni FaviJ più Surreal Power uguale Favi Surreal Power Jerry È arrivato il Power Player Super Joy Ma tu ci credi a sta stronzata io no? Oggi voglio fare uno speciale per i tuoi iscritti Oggi voglio fare uno speciale per i due iscritti Mi piace perché lo dice con entusiasmo capito? Al giorno d'oggi su YouTube se tu hai due iscritti è come se hai due milioni e mezzo di iscritti Avete capito raga? È uno speciale per i due iscritti C'è questo ragazzo per guadagnare due iscritti si è fatto un culo così Mi rendete conto? Grazie 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 Prego 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 non c'è di che gli iscritti chi sei? Tu e tuo fratello? Sono due iscritti sarà lui e suo fratello E spero di avere altri iscritti al mio canale più di due No guarda secondo me dopo questo video hai perso anche quei due iscritti Minchia Ha detto minchia? Minchia Hai detto proprio minchia? Minchia Non so cosa cazzo c'entra minchia però vabbè l'ha detto parole a random capito? Minchia Non ti emozionare stai tranquillo rilassati somatizza e parla Mi ricorda qualcuno Stai tranquillo rilassati sodomizza no sodomizza no Sodomizza Somatizza e parla Sodomizza che mi so? Vabbè poi te lo spiego a te Diciamo fare uno speciale E quindi ho pensato di fare una cosa Diciamo che vuole fare uno speciale Che è quello che già è ovvero un bambino molto speciale E vediamo cosa ci mostra di speciale questo bambino Rimanete qua E chi cazzo si muove? Qua siamo non è che scappiamo Non abbiamo altro da fare noi che vedere cosa fa lui Figuriamoci se ce ne andiamo Voglio scappare ti giuro Niente se ne andato Ci ha lasciato qui Ma dove cazzo se ne andato? Oh ci sei Dove cazzo sei? Minchia ma puoi lasciare la telecamera lì a registrare Mentre lui se ne va e si fa i cazzi suoi Che cazzo è? Cosa cazzo è? Aspè l'ho capito Raga è una spada di plastica Voleva fare tipo zorro e gli casca la telecamera Questa è epica raga ve lo faccio rivedere Questa figura di merda è epica E gli cade anche per la seconda volta Questa è la parte più bella del video Cioè questa scena da sola vale tutto il video Beh ragazzi questo video trash di merda Speciale due dita ficcate in culo Finisce qui E mi raccomando in descrizione trovate il link della mia pagina facebook Andate a mettere subito mi piace Tempestate di like questo video E la morale come sempre è solo una Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Sura al power Questa è blasfemia Questa è pazia Minchia Voi raga E se non siete ancora iscritti al mio canale Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Cliccando il tasto iscriviti Condividete Commentate Mettete mi piace E guardatevi questi video qua Che vi sto consigliando io Mi raccomando In descrizione a questo video Come in ogni altro mio video Trovate tutti i miei link Di facebook Di twitter E di google plus Ciao a tutti